oggi amici cosa farò? farò un po' di petto di pollo raga petto di pollo e poi una bella mozzarella raga quindi siamo leggeri leggeri stamattina raga allora raga la voglio fare direttamente davanti a voi non già cucinata raga la voglio fare direttamente da voi allora prenderò poco poco di olio raga poco poco però poco poco di olio prenderò del sale raga la facciamo tutta in diretta raga un po' di sale il petto di pollo che belle braccia raga che belle bracchine facciamo una alla volta raga sembra un po' di sale va sempre raga adesso accendiamo la piastra poco qua dai raga voi cosa vi mangiate di buono raga vi raccomando raga iscrivetevi 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 che sono tante bellissime ricette raga prendo qui la portata ecco qua nel frattempo farò un bel panino alla friggitrice d'aria raga ok allora raga ho messo un panino alla friggitrice d'aria no poi lo facciamo diventare croccante croccante wow allora nel frattempo il petto di pollo sta cuocendo mi raccomando iscrivetevi sempre raga iscrivetevi sempre che bondà poi per insaporire il petto di pollo ci metterò degli aromi che come una specie di origano raga e lo insaporiamo bene bene raga che bontà ma che bontà raga dai 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 sta cuocendo per bene raga sentite che odore raga che odore che male il panino è riscaldato raga quindi nel frattempo facciamo sempre bella bella all'ottomare lei raga ok piacciateci sempre sopra raga così qua 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 vi raccomando raga vi raccomando iscrivetevi sempre raga iscrivetevi sempre quando vedete che il colorito è così raga vedete? ve lo faccio vedere è ottima vi mettiamo di nuovo un po' di sale un'altra bella pracchia di petto di pollo un po' di sale e gli aromi voi cos'avete mangiato di buono raga cosa avete mangiato? ecco qua raga mi sono un po' lavato le manine adesso raga vi giriamo metteremo sempre un po' di arometti siamo a posto vediamo tutto siamo pronti eh quasi raga siamo pronti poi raga prendo un pezzo di provolone raga un pezzo di provolone che mi è rimasto dalla ricetta di ieri siccome io non butto nulla raga cosa faccio adesso raga? prendo il provolone raga lo faccio così raga vedete? a fette seguite raga ecco qua lo facciamo a fettine raga vedete? a fettine ecco qua adesso che la carne vedete è ben gotta prenderò il provolone che ho tagliato raga e ce lo faccio squagliare raga lo squagliamo poi ci vuole ovviamente raga la maio non può mancare raga un bel bicchiere di pepsi non può mancare mai qua o adesso prenderemo una cucchiaia vedete? è tutto squagliato raga si ha preso tutti gli aromi che io ho lasciato nella fessura raga vedete? chiudiamo la piastra vedete? caldo caldo raga e la mettiamo qua sopra sul taco celeste sulla cotonetta scusatemi ecco qua raga adesso faremo l'assaggio tutto tutto in tempo reale raga quindi tutto in tempo reale prendiamo il panino sentite lo apro prenderò una buona una buona pettina vedete? di pezzo di polla poi un po' di provola provolone squagliato ecco qua ovviamente raga non può mancare la maio pochettino non tanta ecco qua buon appetito raga raga è buono vale la pena raga è buono veramente vi raccomando raga iscrivetevi su youtube su instagram e su tiktok raga raga è buono un po' buono veramente raga è troppo buono ragazzi scusa ma stanno facendo dei lavori ragazzi raga una vera delizia ragazzi raga vi aspetto alla prossima ricetta ragazzi ciao ciao ciao